Amici carissimi, un meraviglioso e amorevole saluto da Madre Terra, la nostra mamma, la tua mamma, ti invito a prendere immediatamente carta e penna e assegnarti il nostro numero di telefono, acqua sceire 800-125-769, perché io ti dirò delle cose adesso che ti interesseranno moltissimo proprio a te. Dunque l'acqua è sinonimo di vita, la vita di che cosa è sinonimo? A questa domanda Tiziano Terzani rispose così, che cos'è la vita? La vita per me è una giostra meravigliosa e ogni mattina quando mi sveglio mi dico ah, che bello, un altro giro di giostra. Stasera le ninfe, queste divinità protettrici dell'acqua sono qui con me e mi invitano a parlarvi di acqua in termini anche poetici. Citiamo allora il grande poeta e filosofo romano Seneca che diceva così non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Amico io sto parlando con te, eccoti la rotta, ecco la rotta che ti porterà nella tua casa un'acqua pura, come e migliore dell'acqua di Sorgetto. Per rompere il ghiaccio e rimaniamo così in tema di acqua, adesso ti faccio conoscere il capo tecnico dell'azienda che ho avuto il piacere e l'onore di accompagnare durante una delle sue installazioni. A questo signore ho fatto alcune domande, sentiamo che cosa risponde. Buongiorno signora, acqua a scegliere. Prego. Onesto, dopo la sua ordinazione è passato solo qualche giorno, giusto il tempo di organizzare la consegna, ora eccoci qua, come da lei ordinato. La signora sembra ad dubitare, sembra pensare, ma avrò fatto realmente un buon affare, risparmierò veramente con l'acquisto di questo depuratore rispetto all'acquisto delle bottiglie di plastica. Ma certo sì. Sembra pensare questo, la signora. Certo, l'acquisto di un depuratore, anche se l'acquisto può essere diciamo così scomodo, però è ammortizzabile abbondantemente tramite il non acquistare più le bottiglie. È chiaro? Vi ripeto, non c'è solo il costo della singola bottiglia, dovete sommare a questo anche la benzina per andare al supermercato, il tempo che perdete. E la fatica. La fatica fisica. Il marito potrebbe avere qualcosa da obiettare, ma siamo sicuri che depura veramente l'acqua, perché nel nostro comune, pensa il marito, nel nostro comune dicono che controllano l'acqua tutti i giorni e dal rubinetto esce acqua pulita, quindi perché la devo ulteriormente depurare bellissimo oggetto? A cosa serve effettivamente se già mi esce cura dal rubinetto? Il marito potrebbe pensare questo, forse. Perché diciamo così, il comune aggiunge il cloro giustamente per disinfettare l'acqua per esempio, che pur essendo buonissima dell'acquedotto attraversa spesso delle tubature purtroppo che diciamo così come sappiamo in Italia perdono ruggine magari, sono rugginose, hanno dei fori, eccetera. La macchina in questione elimina il cloro, elimina diciamo ruggine, elimina terra, moto e tutto quello che concerne diciamo le particelle che possono depositarsi nelle tubazioni. per cui rende l'acqua esattamente oligominerale, esattamente quella in bottiglia con la capacità di regolare addirittura l'uscita, in questo caso la salività e la conducibilità dell'acqua. Per cui se c'è un bambino piccino vogliamo un'acqua più leggera, se c'è degli sportivi un'acqua più sostanziosa di sale minerale, abbiamo questa opportunità che diciamo non tutti i depuratori possono offrire. Vi faccio vedere come si può essere installata, o verticale, salute, che buonissima, arrivederci veramente e buona giornata, buone tante bevute, sane, grazie mille, ciao piccino. Prima di continuare caro amico o amica ti invito a fare un brindisi insieme a me, con acqua depurata naturalmente, ma non usare il solito modo di dire salute, cin cin, prosit, ti invito a dire evviva l'acqua, grazie terra di questa meravigliosa acqua. Il capotecnico, il perito Stefano che hai potuto ascoltare, oltre che essere una persona di straordinaria competenza tecnica e cultura tecnica, è anche un uomo estremamente gentile e disponibile, così sono anche gli altri suoi colleghi, sono tutti così in acqua scena, è una cosa incredibilmente bella, meravigliosa. Dunque, lui vi ha mostrato un depuratore osmosi in vessa, un prodotto esattamente uguale a questo, che può essere installato o in posizione orizzontale, come potete osservare, oppure in posizione verticale, come ha dimostrato lui all'interno della casa. Al tuo rubinetto che cosa succederà? Avrai il tradizionale rubinetto, quello di sempre, più un altro rubinetto, questo qua, che ti fornirà la tua acqua meravigliosamente depurata. Naturalmente, per motivi di spazio, di tempo, io non vi ho potuto portare gli oltre 40 macchinari di acqua sceli, vi ho portato soltanto alcuni oggetti a titolo dimostrativo. La cosa che io ti invito a fare è di telefonare immediatamente, immediatamente. Prima cosa, la telefonata è assolutamente gratuita, paga acqua sceli, anche questo la dice lunga sulla serietà di questa importante azienda nazionale. Il numero verde è 800-125-769, esattamente quello che vedi sopra. Dunque, parliamo un attimo dei problemi dell'acqua di casa tua. Se abiti in una città qualsiasi, italiana, europea, qual è il problema principe in città? Il calcare è il grosso problema. Se tu hai un tubo, un'ipotesi, il tubo dell'impianto termico di casa tua o idraulico ha queste dimensioni, con l'andare del tempo le dimensioni del tubo si ridurranno moltissimo, forse addirittura fino a un numero infinitesimale. Il tubo alla fine finirà con lo spaccarsi, i radiatori anche, i grandi elettrodomestici ad acqua della casa, scaldabagno, lavatrice, lavastoviglie, eccetera, si guasteranno, avranno vita brevissima. Qual è questo grosso problema? È il calcare. Le acque cittadine, purtroppo, la stragrande maggioranza sono piene di calcare. Cosa suggerisce acqua sceire? Acqua sceire suggerisce un filtro addolcitore, che è questo qua. Il filtro viene installato subito dopo ammonte del contatore dell'acqua. Non tutti gli impianti hanno la predisposizione per poterlo fare. Sarà il tecnico che ti farà un sopralluogo gratuito a casa tua e ti dirà se è il caso, se lo può mettere o meno. Comunque, l'offerta di questa telepromozione, perché questa è un'azienda giovane, un'azienda dinamica, anche se le persone che la costituiscono hanno una grande esperienza e competenza tecnica, ha necessità di farsi conoscere. Ha invitato me a metterci la faccia, ma ne parlo molto volentieri, perché l'azienda è costituita da persone come il capo tecnico, persone serie, persone competenti, hanno ottimi rapporti con i loro clienti, ottimi rapporti con i loro fornitori, con i loro collaboratori. Insomma, veramente, è un'azienda incredibilmente positiva. Noi siamo, come dire, i padri, dico noi perché non sono solo a rappresentare Good News, siamo uno staff di persone, siamo i padri delle buone notizie, del pensiero positivo e naturalmente ne parlo positivamente di un'azienda così positiva. Dunque, vi parlavo dell'adolcitore. L'adolcitore vi risolverà il problema del calcare di casa, i vostri impianti termici, idraulici, i vostri elettrodomestici d'acqua funzioneranno magnificamente, al massimo della loro potenza, perché il calcare non solo riduce il potenziale energetico dell'impianto termico, ma addirittura riduce il potere detergente dei detersivi, una cosa pazzesca, quindi finirai con l'inquinone di più, con riscaldare di meno l'acqua, insomma una cosa assurda, oserei dire stupido, ma perché? Costa pochissimo, questa macchina da sola, costa 1200 euro installata e tu nel tempo avrai risparmiato un sacco di soldi, grazie alla vita più lunga degli elettrodomestici, grazie a uno sfruttamento ottimale dell'energia di casa tua, per stasera per far conoscere, per far apprezzare questa importante azienda italiana Aquashare, ti invito nuovamente a prendere carta e penna, telefona subito, non perdere tempo, è una promozione che veramente è limitata nel tempo, dunque per stasera due oggetti a un prezzo pazzesco, questo è il depuratore osmosi inversa che ha al suo interno anche un sistema microfiltratura, quindi un depuratore il massimo per quanto riguarda la tecnologia depurativa, tu pensa per esempio per desalinizzare l'acqua di mare è necessario una filtratura osmosi inversa, tu pensa che per riciclare l'acqua sulla stazione spaziale internazionale gli astronauti usano dei filtri a osmosi inversa, hai capito che cosa voglio dire, riciclano anche l'urina, quindi finiscono col bere anche l'acqua che deriva dall'urina originariamente, chiaramente la macchina non è questa, ma il principio tecnologico su quale funziona è il medesimo, dunque ti dicevo di prezzi, 2500 euro installato questo da solo, 1200 euro installato il filtro addolcitori da solo, solo ed esclusivamente per questa promozione ti invito a telefonare subito se ne vuoi approfittare, tutte e due insieme 3000 euro, ne puoi pagare comodamente i contanti se preferisci, addirittura in comode rate mensili solo ed esclusivamente, 60 euro circa al mese, ma ripeto questi sono soltanto alcuni campioni, non sono tutte le soluzioni, la cosa che io ti invito a fare è quello di telefonare al centro assistenza, il numero verde appunto, il tecnico ti farà un sopralluogo a casa tua, valuterà la tua situazione, il tuo impianto, la tua acqua, se è dura, se è conduttiva eccetera eccetera, ti farà una proposta ad hoc solo ed esclusivamente per te, non una proposta generica, insisto a dire che nessuno cercherà di appiccicarti un prodotto che non ti necessita oppure che è troppo per te, faccio un esempio, se tu abiti in montagna per esempio, scusate, dai la possibilità, l'opportunità di bere acqua disorgente pura, buonissima, chiaramente il tecnico non ti proporrà questo super depuratore, super filtrate, no, forse a te ti può bastare un depuratore a microfiltrazione che non è inferiore tecnologicamente, sicuramente non ha il filtro ad osmosi attiva né un altro, a te magari te ne avanza e costa molto meno del depuratore ad osmosi inversa, quindi la cosa che ti invito a fare è non ascoltare necessariamente me che ti parlo di un prodotto, ma ascoltare il centro assistenza di AquaShare che chiama subito, approfitta di questa opportunità, non solo, naturalmente questi due prodotti insieme a questo prezzo specialissimo, ma per ogni prodotto che tu andrai ad acquistare, qualsiasi tipo di prodotto, costassi anche 100 euro, ipotesi, tu avrai diritto a due regali che AquaShare ti farà, il sole alle mie spalle ti fa venire voglia di vacanze, anche a me sinceramente, ecco, venite in Italia, amici che mi guardate dall'estero, che mi guardate dal satellite da tutta Europa, venite in Italia, Italia è un paese meraviglioso, io ho girato moltissimo, il mondo mi piace, lo amo, amo il pianeta Terra, però ci sono alcuni posti che sono assolutamente magnifici, ho visto mari bellissimi a giro per il mondo, è l'altro capo dal mondo rispetto all'Italia, ma non ho mai visto un mare così bello come quello delle nostre due grandi isole, la Sicilia e la Sardegna, l'Italia è bellissima amici, venite in vacanza in Italia, per voi italiani che volete invece andare all'estero, stesso discorso, allora che cosa è questo regalo? è un bonus che ti farà risparmiare fino a 500 euro delle tue vacanze, qualsiasi vacanza essa sia, dovunque vorrai andare, risparmierai fino a un massimo di 500 euro, ti mostro subito la simpatia fra l'altro che il nostro amico Artisti dei Viaggi propone, ecco questo è un cofanetto che ti mostra la promozione, fino a 500 euro con il gruppo Artisti dei Viaggi, hai diritto a questo sconto, è una cosa magnifica, eccezionale, dici che vorresti qualcosa di più, vorresti un ulteriore regalo, come ti diceva l'amico il capotecnico Stefano, nelle piccole interviste che gli ho realizzato, questa acqua può essere tarata anche per l'esigenza dei fanciulli, dei bimbi, eccoti qua, un valore di circa 150 euro che noi regaleremo a te dedicato ai tuoi bambini, se non hai bambini lo puoi dare a una scuola, lo puoi regalare a un'istituzione pubblica, un'orfanotrofia, noi ti regaleremo anche 150 euro di libri chiaramente nuovi, appena stampati, dell'importante editore nazionale, il rubino, d'accordo? Dunque parliamo di altri prodotti, ripeto che sono solo ed esclusivamente campioni dimostrativi questi, acqua share ha una gamma di oltre 40 macchine, questa per esempio è il plus ultra della filtrazione, sempre un depuratore ad osmosi inversa, da posizionare sopra il lavello invece che sotto come l'altro, la particolarità di questa macchina è che è in grado di fornirti acqua frizzante, acqua refrigerata e naturalmente acqua naturale, è magnifico, è meraviglioso Cari amici, acqua share ha anche prodotti industriali, questo è uno dei campioni, bar, ristoranti, alberghi, agriturismi eccetera eccetera, come potete vedere produce acqua gassata, acqua naturale oppure acqua refrigerata, telefona subito amico che possiede un bar, ristorante ad un albergo, non indugiare, 800-125769 produrrà la proposta più adatta alle tue esigenze individuali, oltre alla tua dose quotidiana di acqua abituale che bevi normalmente devi aggiungere due oppure tre bicchieri, uno prima di andare a dormire, quindi bicchiere d'acqua sul comodino, prima di andare a dormire un bicchiere d'acqua, su durante la notte ti risvegli per andare a fare pipì, devi bere un altro bicchiere d'acqua, però il tempo stringe, io devo passare necessariamente ai saluti, cosa vuoi che ti dica caro amico? Ti saluterei con le parole bellissime del grande Cristoforo Colombo, e il mare porterà all'uomo nuove speranze, come il sonno porta ai sogni, la terra alle mie spalle, questo pianeta così ricco d'acqua, è la tua mamma, è la mia mamma, ed è anche un'astronave, viaggia nello spazio a 1500 km orari su se stessa e a 107.000 km orari intorno al sole, la terra è veramente un'astronave, immagini la grande fortuna che abbiamo tutti noi, che abbiamo l'acqua in casa, da oggi in poi tu puoi avere un'acqua assolutamente favolosa, non perdere tempo, non aspettare, acqua share è in grado di risolvere qualsiasi problema inerente l'acqua, non soltanto la depurazione, anche piscine, pannelli solari, riscaldamento, insomma il gruppo acqua share e Good News ti invitano a bere acqua pura, quella di acqua share, telefona subito, non induciare, non aspettare. Salute! acqua share, la tua nuova buona acqua.